Benvenuti a questo appuntamento dedicato all'abbraccio ai tempi del coronavirus e prima di cominciare proprio per utilizzare una tecnica che è tipica del coaching, quindi portare la nostra mente, i nostri pensieri in uno spazio di consapevolezza, vorrei che per un attimo vi soffermaste a pensare qual è il significato che avete sempre dato all'abbraccio, quindi se è un gesto che vi è usuale oppure non così facile da praticare, se preferite di norma riceverli oppure darli, se ci sono delle persone con le quali vi è più facile e altre con le quali invece percepite una difficoltà e se vi piace abbracciare i vostri animali, se ne avete e quali sono le sensazioni, le emozioni che provate durante un abbraccio, positive o negative anche, assolutamente. E fate queste riflessioni che magari potete anche annotare su un foglio, osservare se e come è cambiata la vostra idea rispetto agli abbracci, la vostra attitudine agli abbracci, che cosa è mutato in voi in questo momento che vi ha portato a vedere gli abbracci in un modo diverso, forse dare loro un significato anche diverso. Bene, quindi un piccolo esercizio tanto per cominciare. E quello che è importante sapere dell'abbraccio è che è una pratica, definiamola così, un gesto, un gesto assolutamente volontario che ritroviamo, ritroviamo addirittura in graffiti che risalgono ai Neandertal e ritroviamo in tantissimi graffiti anche dei Sapiens e è stata ritrovata circa 6.000 anni fa una coppia abbracciata di un uomo e di una donna che sono stati chiamati gli amanti di Valdaro, sono stati trovati vicino a Mantua e dove queste due figure sono state ritrovate proprio in questo abbraccio, l'una rivolta verso l'altra e sono rimaste abbracciate per oltre 6.000 anni, proprio a testimoniare quanto l'abbraccio sia sempre stato riconosciuto come veramente un gesto di grande empatia, un gesto di grande affetto e di scambio reciproco eppure un gesto così semplice, veramente molto semplice ma molto potente e nell'abbraccio noi scambiamo energia, scambiamo calore e dentro l'abbraccio ci sono delle parole non dette, parole come ci sono, va tutto bene, non ti preoccupare, tutto passa, forse le riconoscete sono parole nascoste che emergono nel momento in cui noi abbracciamo qualcuno e sempre nell'abbraccio è nascosto il perdono, è quel gesto proprio che nasce come naturale nel momento in cui noi perdoniamo qualcuno ed è proprio legato al lasciare andare ma non solo al lasciare andare quella situazione, quel rancore, magari quel disappunto ma proprio il fidarsi ed affidarsi perché vi sarà sicuramente capitato di accoccolarvi in un abbraccio o di lasciarvi andare e proprio lasciare andare le resistenze, le forze in quel momento proprio per entrare completamente nell'abbraccio e quando siamo nell'abbraccio diventiamo un tutt'uno diventiamo un tutt'uno con l'altra persona l'abbraccio abbatte le barriere, ci fa uscire dalle nostre gabbie mentali e proprio l'esatto opposto della separazione perché nell'abbraccio diventiamo uno pur mantenendo la nostra unicità e in questi giorni ne siamo privati e un esserino molto piccolo che apparentemente non è neanche così brutto, non è così orribile perché se pensiamo ai pensieri che a volte abbiamo nella nostra mente e quelli che io chiamo mostri o draghi che creiamo nella nostra mente in seguito a traumi, paure o schemi mentali a volte sono decisamente più orrendi e fanno molta più paura ma questo esserino è riuscito a separarci è riuscito a creare delle barriere e delle distanze tra di noi che sono veramente il contrario di quello che è l'abbraccio e ci sono delle situazioni in questi giorni dove siamo portati veramente a rinchiuderci dentro di noi e a entrare in uno spazio interiore è importante farlo è importante farlo ma non deve essere una sorta di protezione di fuga, di allontanamento da quella che è la realtà ma in realtà è un momento invece di grande e profonda riconnessione con noi stessi proprio per creare quella che io di cui parlo sempre la connessione mente-corpo proprio per entrare dentro di noi e esplorare gli spazi dentro di noi e forse anche quel momento grazie a tutto ciò per andare magari a osservare quei mostri di cui parlavo prima quei draghi di cui parlavo prima per vedere se sono davvero così spaventosi o se ora in questo momento con questo vissuto di questi giorni osservare se sono ancora così paurosi se sono ancora così importanti se abbia ancora veramente un senso nutrirli e continuare a tenerli con noi e una volta osservati forse potremmo notare che non sono dei draghi mostruosi che sputano fuoco o dei mostri terribili ma magari sono dei piccoli draghetti o dei mostri cattolini con i quali possiamo anche magari giocare e non cacciare perché è comunque una parte di noi ma dargli la dimensione reale quindi non più dei giganti ma in una scala molto più ridotta e quindi questo è un momento come dicevo dove anche il gesto il gesto dell'abbraccio non è possibile quindi è un altro cambiamento e quindi è un momento di grande cambiamento e Darwin diceva che non sono i più forti e i più intelligenti che sopravvivono ma coloro che meglio si adattano al cambiamento e quindi ecco che quello che ci siamo chiamati a fare è proprio aprirci aprirci a questo cambiamento quindi non chiuderci in realtà non entrare in uno spazio di contrazione ma in uno spazio di espansione e aprire il nostro cuore e osservare tutto quello che accade non dagli schemi della mente come siamo normalmente abituati a fare ma dal cuore quindi entrare nello spazio del nostro cuore e osservare da lì cambia sicuramente la prospettiva cambia il punto di osservazione ma cambiando il punto di osservazione cambiano proprio anche le emozioni le sensazioni dentro di noi e questo ci può permettere di entrare in uno spazio di maggiore pace e serenità che cosa possiamo fare per superire a questo abbraccio? beh allora se non siamo soli in casa proprio perché ci dobbiamo adattare no? proprio per la nostra sopravvivenza se non siamo soli in casa bene possiamo anche abbracciare le persone che sono accanto a noi e testare come è cambiato questo abbraccio qual è il nuovo significato che diamo a questo abbraccio? anche pensando magari a persone lontane che in questo momento non possiamo abbracciare se siamo soli quello che possiamo fare allora intanto se abbiamo un compagno animale quello che possiamo fare è abbracciare il nostro cane il nostro gatto e non possiamo abbracciare il pesce rosso ma possiamo abbracciare il nostro compagno a quattro zampe e scambiare con lui o con lei il nostro calore le nostre emozioni se invece siamo soli una cosa che possiamo tranquillamente fare è abbracciare noi stessi è uno strumento molto efficace perché è il semplice gesto dell'abbraccio che attiva dentro di noi delle connessioni a livello mentale e a livello fisico che ci portano proprio in quello stato di pace di benessere dell'abbraccio e liberiamo nel nostro corpo delle sostanze come l'ossitucina la serotonina e la dopamina che ci portano in uno stato di benessere ma non solo ci portano proprio in uno stato di positività e anche in uno stato di piacere quindi generiamo tutta una serie di sostanze che possiamo definire sostanze del buon umore esistono proprio delle terapie sull'abbraccio delle terapie che sono state studiate negli anni trenta nei briefotrofi in america dove è stato visto quanto l'abbracciare i bambini modificasse e agisse sulla loro personalità sul loro livello di interazione e sul loro umore e sulla loro apertura anche agli altri non solo ma anche all'apprendimento al nutrimento quindi è uno strumento potentissimo e quello che facciamo quando entriamo in questo stato potenziamo il nostro sistema immunitario ebbene sì perché queste sostanze vanno a contrastare gli ormoni dello stress e in questo modo il nostro sistema immunitario non è in allerta non è come un soldatino pronto a combattere e quindi se possiamo anche così definirlo non è in uno stato di resilienza ma è proprio in uno stato di combattimento e quindi quello che accade è che non può operare al 100% delle sue funzioni noi in questo momento invece abbiamo bisogno di essere al 100% del potenziale del nostro sistema immunitario e nello stesso tempo entrando in un abbraccio cambiano le nostre emozioni giusto? abbiamo detto entriamo in uno stato di piacere di benessere di pace e tutte queste emozioni stati d'animo vibrano a delle frequenze molto alte e il vibrare a delle frequenze così alte aumenta proprio il nostro benessere e ci protegge anche in questo caso da quelli che sono gli agenti esterni perché quando le nostre energie sono basse qualunque agente esterno che vibra con una frequenza anche leggermente superiore alla nostra può avere la meglio su di noi e quindi insomma quante cose in un abbraccio un piccolo semplice gesto che oggi assume un significato totalmente diverso per molti di noi e se non è un significato diverso assume probabilmente un maggior valore rendendolo qualcosa di unico e di speciale e che credo faremo tutto al più presto proprio anche per celebrare il poterci rincontrare il poterci rivedere e il poterci salutare con un abbraccio un abbraccio un abbraccio un abbraccio un abbraccio un abbraccio